Ciao ragazzoli e ragazzole, questo è un totale fuori onda, era proprio un video che non avevo messo in programma di girare nonostante l'argomento di cui sto parlando è qualcosa che attendevo da tantissimo ma ho deciso di farlo perché avrei voluto fare delle storie su Instagram ma credo che fossero un po' cioè avrei dovuto riempire penso tutte le storie di Instagram per darvi un'idea di quello che penso nei confronti di questo film e soprattutto per cercare di convincerevi ad andare a vedere Freaks Out di Gabriele Mainetti come vi dicevo è un film che io attendo da tantissimo, la produzione di questo film è iniziata nel 2018 anzi neanche la produzione lì è ripresa nel 2018 per cui la produzione forse è anche un pelino prima rendiamoci conto da quanto tempo va avanti, in realtà il film doveva uscire nel 2020 e chi appunto mi segue su Instagram lo sa che ho pianto calde lacrime nel momento in cui hanno richiuso il cinema e ovviamente Freaks Out è stato spostato al 2021 e per cui niente ce lo vediamo adesso io l'ho visto ieri e voi spero che andrete a vederlo in questi giorni e mi farete poi sapere che cosa ne pensate ma intanto ve ne parlo un po', vi parlo un po' di quali sono state le mie impressioni e cercherò di convincervi in qualche modo ad andare a vederlo, vediamo se ci riesco spero io mi sono fatta un po' un elenco, poi non so se riuscirò tanto a seguirlo perché secondo me inizierò poi a fare 8500 divagazioni sull'argomento intanto è un film ma è quasi come se fosse un romanzo d'appendice i cosiddetti feuilleton, sapete quei romanzi che si pubblicavano a puntate perché è lungo, dura quasi due ore e mezza e c'è veramente tantissima roba dentro questo film, è tanta roba come ha detto Gabriele Mainetti è tanta roba, ci sono però tanti colpi di scena ci sono tante battute, c'è un ritmo molto veloce, molto rapido per cui sono due ore e venti che vi immergono completamente nella storia ma non vorreste mai andare via questo è un film che però scorre molto velocemente cioè non vi sembra ma ad un certo punto siete praticamente arrivati alla fine e dite va come, è già finito? ma Gabriele ma non vuoi andare avanti un'altra mezz'oretta a raccontarci qualcosa di più? vogliamo andare avanti con questa storia? e proprio come i feuilleton i personaggi, alcuni di loro sono un po' abbozzati, sono quasi caricaturali sono più caratterizzati forse per fisicità per esempio il capo dei partigiani che è Gobbo, che ha questa parlata siciliana si incazza molto velocemente anche se in realtà forse un po' tutti i partigiani in questo film sono molto caricaturali ma secondo me ci sta perché appunto fa parte un po' del romanzo d'appendice cioè provate a pensare ai romanzi tipo di Charles Dickens in cui tantissimi personaggi sono appunto caratterizzati già dal loro nome Uriah Hip per esempio uno dei più famosi di Dickens e lui fa queste descrizioni di poche righe in cui vi sembrano dei personaggi quasi assurdi così inesistenti, grotteschi ecco, credo che sia la parola giusta la stessa cosa fa qui, fa Gabriele Mainet ma un po' in generale tutti quanti perché anche i suoi stessi eroi comunque sono caratterizzati per qualcosa di fisico eroi che rappresentano l'elemento fantastico che è assolutamente fondamentale in questo film perché sì, c'è anche l'elemento realistico ma voi dovete farvi trascinare in un film che ricorda tantissimo quei film fantasy degli anni Ottanta quelli che ormai adesso non si vedono praticamente più ogni tanto qualcuno prova a rifarli ma vuole aggiornarli al 2021 per cui secondo me fa soltanto dei grandi pasticci perché comunque quei film avevano come dire, dei paletti ben fissi cioè dovevano iniziare in un modo svilupparsi in un modo e finire in un determinato modo invece qui si vuole sempre un po' stravolgere fare la cosa per fare un po' i fighi perché siamo moderni e poi si fa soltanto un gran macello allora ti viene da dire guarda, cambia genere non fare quei film anni Ottanta se non hai intenzione di farli finire come finivano i film anni Ottanta sono quei film un po' favole in cui ci sono i mostri che in realtà sono i buoni e poi i cattivi sono in realtà gli umani anche se in questo film il cattivo non è umano nel senso che sì, è un uomo ma anche lui è un freak esattamente come i protagonisti è un cattivo che impietosisce che Gabriele Mainetti secondo me ha scritto benissimo che inizialmente impietosisce perché vi viene raccontato anche qui in maniera piuttosto rapida ma assolutamente efficace il suo passato ma non è uno di quei cattivi per cui tu non parteggi ma perlomeno ad un certo punto provi un sentimento di avvicinamento nei suoi confronti una certa simpatia questo è un cattivo che comunque ci metti veramente poco a lasciare da parte ogni pietismo per iniziare ad odiarlo Franz non ha soltanto sei dita per mano ma Franz vede il futuro quando si fa di etere ed è appunto vedendo questo futuro che si convince che trovando questi quattro freak lui riuscirà a salvare la Germania dalla distruzione più completa il fatto è che lui raduna vari eventuali freaks nel suo circo il problema è cosa fa di questi freaks e ve lo lascio immaginare insomma non è uno di quei cattivi come poteva essere lo zingaro di lo chiamavano gigrobot che era assurdo strappava risate spesso e volentieri che aveva queste esplosioni di violenza incontenibile spesso e volentieri cioè soltanto proprio alla prima scena in cui ci viene presentato insomma si lascia andare a questo omicidio così di botto senza senso questo Franz non è così è un personaggio completamente diverso un William completamente diverso assolutamente scritto benissimo ma sicuramente non vi strappa né una risata né un vabbè ma poverino no perlomeno a me non ha mai strappato un convento del genere oltretutto Franz è nazista perché siamo nella Roma del 1943 ed è questo il background reale c'è Roma c'è il rastrellamento del ghetto ebraico che è mostrato in maniera molto brutale e ci sono tanti particolari in questo rastrellamento sono tante piccole cose che forse meriterebbe appunto una seconda visione per notarle tutte ma credo che già anche alla prima ci sono alcune brevissime immagini brevissime inquadrature vi fanno sinceramente salire la pelle d'occa perché voi sapete immediatamente che cosa succederà a certe persone nel momento in cui Gabriele inquadra assolutamente scelta non casuale inquadrare proprio quelle persone come dicevo c'è la storia c'è l'astrellamento ci sono gli esperimenti nazisti ovviamente e in mezzo a tutto ciò in mezzo a tutto questo che si muovono i nostri quattro eroi sì finalmente ci siamo arrivati ci sono quattro freaks c'è il loro padre putativo Israel che gestisce questo circo il circo mezza piotta che noi vediamo subito all'inizio del film in questi primi dieci minuti iniziali che secondo me sono meravigliosi parla praticamente soltanto Israel la primissima battuta in tutti i sensi tra l'altro è pronunciata da Cencio dopo una decina di minuti di film ma noi sappiamo già tutto di loro sappiamo qual è il rapporto tra di loro sappiamo già chi è chi chi fa cosa quale ruolo giocherà all'interno della storia loro sono sono Matilde sono Fulvio sono appunto Cencio e Mario e sono appunto questi quattro eroi che si ritrovano completamente soli allo sbaraglio perché Israel ad un certo punto della storia vuole andare a comprare questi biglietti per scappare in America Israel è ebreo oltretutto improvvisamente però lui non torna non torna da loro per cui la domanda è scappato o è stato catturato dai tedeschi e questi quattro partono ognuno ovviamente con la sua idea del che cosa possa essere successo a Israel e loro sono completamente persi perché? perché hanno sempre vissuto in questo mondo molto protetti loro comunque hanno avuto un passato più o meno traumatico tutti loro insomma chi più chi meno non ha mai avuto una famiglia e per cui sono abbandonati a loro stessi ed è bello perché cercano un posto dove stare dove sentirsi a casa per rendersi conto molto avanti un po' per volta però che in realtà c'erano già un posto da chiamare casa che è appunto l'uno con l'altro che è che loro sono la famiglia di tutti loro è bella questa consapevolezza che si sviluppa un po' per volta nel film questa cosa del siamo famiglia tra di noi siamo siamo freaks ma non è una condanna perché ognuno di loro ha un potere Fulvio che sì è l'uomo peloso ma anche una grande forza c'è Mario che è tipo un magnete umano c'è Cencio che riesce a incantare gli insetti e poi c'è Matilde che in realtà poverina è quella che ha il dono forse più più orribile cioè il fatto che lei è la ragazza elettrica ma implica che non sa usare il potere a comando per cui non la si può toccare perché sennò viene fulminato hanno un po' paura dei loro poteri Matilde soprattutto ovviamente considerato la portata del suo potere ma si rendono conto che uniti e insieme possono affrontare questa paura al di là del potere in sé ma tutta una serie di paure che ognuno di loro ha di essere diverso di non sapere gestire qualcosa non posso dire senza spoilerare insomma un po' per volte vediamo che tutti loro vengono a patti con qualcosa che prima non volevano assolutamente affrontare e come vi dicevo ognuno di loro ha un ruolo in questa storia a me piace moltissimo che appunto Gabriele Mainetti essendosi ispirato a questi film degli anni 80 questi film avventurosi questi film fantasy degli anni 80 ha voluto mantenere anche quella che era un po' la scaletta dei quei film anni 80 e un po' anche tutta la serie di personaggi che ruotano in quei film lì no? cioè c'è questo gioco delle parti c'è queste dinamiche che appunto sono tra l'altro fondamentali in questi film con l'eroe che è il protagonista che ha dei desideri e che deve riuscire no? ad ottenere questo desiderio che può essere qualcosa di fisico ma che è anche qualcosa che riguarda la sua interiorità cioè questo è fondamentale ed è abbastanza chiaro cioè per chi ha letto dei manuali di sceneggiatura per chi insomma ha studiato teorie di narratologia è uno spettacolo questo film perché tu dici Gabriele cioè hai fatto proprio come dovevi fare come si faceva una volta no? seguendo appunto questo plot abbiamo l'eroe che in questo caso è Matilde abbiamo la spalla comica c'è il mentore c'è l'aiutante c'è il cattivo che è quello che appunto va contro tutti questi desideri e io credo che spesso e volentieri come vi dicevo all'inizio cioè si è voluto un po' sovvertire questo plot questo seguire la storia perché si voleva fare i diversi quando in realtà cioè non serve sovvertirlo cambiare su tutto o non come stanno facendo in tanti oggi cioè banalmente seguire la storia cioè seguire il percorso dell'eroe che all'inizio della trama si trova in questa fase e mano a mano viene incasinata la sua vita e deve appunto rirraggiungere questi due obiettivi con tutti questi personaggi che li ruotano attorno e con tutta una serie di difficoltà che dovrà affrontare per crescere e per poi giustamente arrivare all'obiettivo finale e vincere perché è una soddisfazione dell'eroe ma anche di chi guarda ovviamente vedere la soddisfazione dell'eroe perché sennò è chiaro che dopo tu esci dal cinema che invece ti girano le scatole perché è ovvio che se non c'è soddisfazione dalla parte del personaggio che tu stai guardando stai seguendo hai amato e a cui vuoi bene insomma non è bello ecco io non credo che serva tanto sovvertirle ecco queste regole per fare i fighi o comunque non come stanno facendo cioè una cosa molto stupida il viaggio dell'eroe appunto di solito l'eroe è un eroe buono c'è chi ha utilizzato lo schema del viaggio dell'eroe per raccontare la parabola di un eroe cattivo il padrino banalmente per cui non credo che per fare il capolavoro serva a cambiare su tutto cambiare completamente questo film è stato paragonato tantissimo ai film americani di oggi e io non cioè io eviterei ecco un paragone del genere perché io non credo che adesso come adesso negli ultimi anni il cinema americano abbia da insegnarci molto sono sincera perché il cinema americano di adesso è banalmente e soprattutto al cinema io vi dico al cinema è marvel supereroi questo è il cinema americano guerre stellari che però io non lo prenderei come riferimento considerato il casino che hanno combinato comunque con i sequel che assolutamente sono una roba indecente quando bastava seguire questo plot bastava seguire il plot del viaggio dell'eroe bastava veramente pochissimo che poi se voi guardate guerra stellari quelli originali quello seguono come plot e infatti per quanto semplice possa essere la storia perché è semplice ma è ben riuscita proprio perché tu hai seguito un ordine per scrivere una storia non hai fatto avanti e indietro di lato di fianco cosa che è stata fatta purtroppo in questo guerra stellari cioè il cinema americano adesso è questo è botti botti grossi botti grossi effetti speciali e poca sostanza perché il cinema americano di nicchia il cinema quello più indipendente alla fine adesso non lo vedete al cinema lo vedete in streaming perché al cinema non fa i numeri e per cui di conseguenza non esce al cinema è brutale da dire questa cosa se qualcuno di voi sta pensando Emma Dune Dune che è un film di fantascienza e che sicuramente ha degli effetti speciali non si basa però su quello sui botti sugli effetti speciali è un film passatemelo indipendente con un grosso budget perché non ha come dire una storia da film Marvel e io non sto criticando a chi piacciono i film della Marvel per carità però secondo me adesso come adesso c'è veramente un monopolio esagerato di questo genere e lo trovo un po' svilente perché alla fine il cinema americano per tanti anni ci ha insegnato invece adesso forse siamo noi che dovremmo insegnare qualcosa a loro noi come cinema europeo non dico solo come cinema italiano ma tornando a Gabriele Mainetti sicuramente lui ha imparato la lezione ma da un cinema molto più classico perché ci sta E.T. e lui questo non l'ha assolutamente negato c'è una scena che è un chiarissimo omaggio di E.T. ma ci sta anche un chiarissimo omaggio a Tarantino ci stanno i battibecchi dell'impero colpisce ancora quello è palese sì ho letto ma che banalità è la classica cosa un po' di odio amore è la battutina è il dispetto è questa cosa sì sì è vero è una classica storia quella che si sviluppa in quella maniera ma ragazzi cioè quante ne hanno scritte prima e poi perché il fatto di fare una cosa già vista non va bene qual è esattamente il problema perché non dovremmo rifarlo cioè funzionava nell'impero colpisce ancora voi non vi emozionate ancora quando c'è Leila che dà della canaglia a Ian Solo prima di baciarlo non vi emozionate ancora a rivedere quella scena io sì nonostante la sappia a memore me la posso recitare qui adesso quella scena eppure ancora mi emoziono per cui che c'è di male se Mainetti ha preso quello cioè quel modo di sviluppare una storia d'amore perché sì è quello è vero è vero ci sta questo e quindi non lo so a me ha dato l'idea di ricascare dentro quei film degli anni 80 in cui sì funzionavano così eppure non è soltanto quello perché poi c'è Mainetti c'è Mainetti che mette insieme tutto questo elabora ci mette dentro la romanità ti fa qualcosa che in Italia onestamente quando l'abbiamo vista una cosa del genere ci caccia dentro Fellini ci ha cacciato dentro il cinema neorealistico insomma ci ha messo dentro tutto lui ha preso ma ha rielaborato a modo suo a modo suo e di Nicola Guaglianone che con lui ha scritto la sceneggiatura e di lui era il soggetto è una cosa nostra è un film nostro che sì alcune cose indubbiamente sanno di già visto ma come in tante altre pellicole e poi non è detto che innovazione voglia dire ho fatto un bel film ecco leviamoci dalla testa questo perché io eviterei onestamente questa cosa perché spesso e volentieri con l'innovare si creano dei mostri nel senso delle robe inguardabili parlano romano? assolutamente siamo a Roma l'unico forse che parla con un accento un filo meno romano e qui a tutto dire è Claudio Santamaria perché il suo fulvio ha sicuramente dei nobili natali gli altri più o meno sì sono cacciaroni sono romani penso che più di tutti che rappresenta proprio il romanaccio che è sempre lì che deve sempre fare la battuta non deve mai star zitto che non tace mai è il cencio di Pietro Castellitto assolutamente cioè lui è è uno che a un certo punto veramente ti viene da girarti e dirgli cencio basta chiudi quella fogna ti scongiuro poi lo fa e lo fa ad un certo punto perché nel momento in cui anche lui ha quello scatto di crescita se vogliamo si rende conto che forse forse deve un attimino chiudere la bocca ed è una scena meravigliosa in cui magari lui ti aspetti che ad un certo punto dica qualcosa in realtà non dice assolutamente nulla e sta zitto sta lì e sta fermo non proferisce assolutamente parola ed è una scena bellissima quella ci sono delle scene come vi dicevo i primi dieci minuti di film parte della scena finale in cui nessuno parla nessuno dice nulla a parte magari pochissime parole poi sì le ultimissime scene ovviamente si concludono con una battuta perché giusto per risollevare il tono del film risollevare l'umore dopo dopo tanta distruzione tanta tristezza c'è questa queste battute finali e che tu dici vabbè ma a che è siamo a Roma siamo in un film di Mainetti sì devi farmela una battuta del genere che che è un po' non te l'aspetti perché ormai dice vabbè il film è finito invece così fuori campo sbom ovviamente sentiamo la voce di cencio che se ne esce con un'altra delle sue e dice vabbè ma lascialiela lascialiela fare sta battuta è meraviglioso come sono castati loro cioè loro quattro penso che siano stati un casting meraviglioso quattro attori scelti benissimi anche perché hanno questo rapporto tra di loro che sembra veramente fraterno che si conoscono da tanto crescono crescono questi vari personaggi come vi dicevo imparano a prendersi cura di se stessi imparano a prendersi cura degli altri perché di loro fino a poco prima si era preso cura Israel non si era mai preoccupati d'altro invece un po' per volte lo fanno imparano anche a aiutare gli altri è un film che fa ridere è un film che fa piangere è un film che vi farà battere le mani non è un film perfetto assolutamente come non era perfetto Gigrobot c'erano delle cose che adesso per quanto noi l'abbiamo lodato stralodato c'erano delle cose che forse erano un po' troppo forse era un po' troppo lungo forse c'era c'era qualche scena di più ma fa niente non è un film perfetto ma non sono perfetti neanche i tricks protagonisti di questo film è una favola è una favola e voi dovete buttarvici dentro a occhi chiusi è un po' come una scena del film in cui Ciencio e Matilde si ritrovano in questo cannone e vengono sparati in aria è la stessa cosa voi vi mettete in questo cannone vi fate sparare in aria poi spalancate gli occhi e là dall'alto vi godete lo spettacolo di questo film è imperfetto ma è divertente è emozionante è meraviglioso ragazzuoli e ragazzuoli io spero di avervi convinto ad andare a vedere Clicks Out di Gabriele Manet spero che vi piacerà tanto quanto è piaciuto a me spero che davvero potrete godervelo completamente senza pensare troppo senza pensare che c'è qualcosa che non va che c'è qualcosa di troppo che c'è qualcosa che manca lasciatevi trasportare dalla magia del cinema di vedere un film del genere al cinema di vedere un film del genere in cui gli attori sono italiani il regista è italiano tutto l'impianto è tutta roba nostra l'abbiamo fatto noi un film come questo l'abbiamo fatto con 12 milioni di euro quando un film del genere se l'avessero fatto negli Stati Uniti sarebbe costato un centinaio di milioni perché lì si fanno le cose in grande e poi si fanno troppi botti e si fa troppo e manca poi tutto il resto manca il cuore che invece in questo film c'è assolutamente e se non vi dà quell'impressione basta che vi andate a ascoltare soltanto qualche intervista del regista degli attori dello sceneggiatore dei costumisti è veramente un film fatto con tanto con buona volontà da parte loro con tanto desiderio di riuscita e per cui facciamolo facciamolo esplodere facciamo che ci ci innamoriamo ancora tutti quanti del nostro cinema quest'anno più che mai quest'anno c'è veramente tanto cinema italiano da andare a vedere al cinema io vi invito ad andare a vederlo perché è veramente di tutto e di più quest'anno cioè ci sono i fratelli di Innocenzo ci sarà i manetti bros con Diabolica dicembre c'è c'è stata la scuola cattolica Ariaferma c'è stata la commedia con Mirale Leone e Stefano Accor Marilyn negli occhi neri c'è veramente di tutto e di più quest'anno per cui se riuscite se potete sostenete anche un po' il nostro cinema che davvero in questi ultimi anni ha sfornato dei piccoli capolavori e per cui merita davvero di di andare avanti e di di continuare così quest'anno i David si scanneranno letteralmente secondo me quest'anno i David ci saranno da litigare ma va bene lo stesso cioè io sarò molto felice di questa cosa e io stessa sono quella che indecisa per chi ti fare per chi ti fa chi devo volere più bene non lo so sicuramente a questi quattro freaks a Gabriele Mainetti e al suo film tantissimo tantissimo Gabriele Mainetti che tra l'altro ha firmato anche la colonna sonora del film che io vi invito ad andare ad ascoltare perché è veramente un capolavoro è un piccolo capolavoro perché è già la colonna sonora soltanto se voi la ascoltate attentamente come si incastrano i temi a volte dei personaggi l'uno con l'altro è qualcosa di molto bello perché vi fa capire effettivamente quale magari sviluppo di storia va a prendere un determinato ramo ecco dalla storia non vi dico nulla lo vedrete ascolterete e poi mi farete sapere grazie qua sotto vi lascio tutti i contatti Instagram e Twitter noi ci vediamo molto presto con l'ultimo video di Halloween anche se quando verrà pubblicato in realtà Halloween sarà già passato ma ci tengo molto a farlo quel video ci vediamo al cinema buona visione a Grazie a tutti.